Ovviamente anche dal sottoscritto il buonasera alla platea televisiva e come sempre il confidenziale ma non meno rispettoso ciao a chi è in studio, Luigi Midiaggio e Stefano Luciani. Previo a Ristorante Urbani, 1600 metri, Mietin, Emogrif, Opin, Gil, Robb, leader del Pino, Coblin, Grip, Session B, in fase di lancio ha sbagliato il numero 3, Opin, Gil, Robb, leader del Pino al comando, al suo interno c'è Mieti, leader del Pino avanti a Mieti, in terza posizione Emogrif, poi Obsession B, che rimane all'esterno, serra in corda a Naorabi, avanti a Goblin, Grip, in piegata leader del Pino all'avanguardia, 14 netti in lancio con leader del Pino al comando, dal gruppo sta intanto migliorando all'esterno, Goblin, Grip, si esce dalla curva con leader del Pino in vantaggio, Mieti in seconda posizione, in terza Nemogrif, poi Goblin, Grip, che ha scavalcato Naora B, che ha all'interno Obsession B, più indietro, Opin, Gil, Robb, quarto iniziale in 31,3, il 600 completato in 47,1, la media di 18,5 con leader del Pino sempre all'avanguardia, nella sua scia resta Mieti con alato Goblin, Grip, poi lungo la corda Nemogrif, avanti a Naora B, poi Obsession B e Opin, Gil, Robb, 3-2-1 la seconda posizione, 18 netti la media per i primi, 800 metri, sempre con ritmo cadenzato all'avanguardia da leader del Pino, che va a completare il giro, 1-17-2, secondo all'esterno Goblin, Grip, terza lì dentro Mieti, quarto lungo la corda Nemogrif, leader del Pino continua al comando, leader del Pino su Goblin, Grip, Mieti arroccata in corda, poi Nemogrif, fuori Naora B, 17-2 la media per i tre quarti di Miglio, completamento della piegata dopo terza partione in 28,6, addirittura d'arrivo con leader del Pino avanti a Mieti, poi Goblin, Grip, che però sta calando, per l'interno sta recuperando Obsession B, Mieti che va all'attacco di leader del Pino, Mieti che insiste all'esterno, nel finale Mieti davanti al leader del Pino, e Obsession B dunque, Mieti allevata da Massimo De Marco e Gaetano Carro per i colori del signore Riccardo Magrini, il training di Gaetano Carro e la guida di Claudio Brugnatelli, con l'ultimo quarto in 34, il tempo totale di 2,01 e 4, la media di 1,15 e 9, sembra poter passare sull'avversario, ma è leader del Pino che però si dipende ancora lungo la corda, allora per la serie come non detto, il figlio di Ducco Fjork e Tiger del Pino, per i colori della scuderia Barca.